Ciao a tutti cari cimini! Io sono Erika E io sono Vanessa E io sono mamma Elena Ciao a tutti! Cosa faremo oggi ragazze? Un video vlog! E io per voi ho una sorpresa Che sorpresa? Io sono emozionatissima! Eh scoprirete dopo poco Non lo fa vedere? No, è una cosa che non si fa vedere Si mangerà qualcosa oggi Io vorrei mangiare tanto il pezzo E io voglio mangiare la Bunger con i sushi Eh no, oggi andremo al ristorante Io voglio mangiare la pizza 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 Andremo al ristorante a mangiare la pizza Io voglio la pizza con i Wuster Anch'io Ok, allora corecini Sapete bene che noi Vi portiamo sempre con noi Vi facciamo vedere tutto 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 E oggi vi faremo vedere la nostra Friday routine Friday in inglese Cosa significa? Venerdì Venerdì Bravissima! Oggi è venerdì Oggi è venerdì? Si No Pensavo che ieri era domani E oggi è sabato Hai capito cosa hai detto? Io credevo che oggi era giovedì Ma oggi è venerdì Sì Dai Erika tu sei a scuola Ogni gioco scrivi I giovi No Non scrivo i giovi lunedì Cosa ma? Mamma Dì Giovedì e venerdì Perché abbiamo i calendari Lì ci sono i mesi Li dico in ordine Febbraio No Genaio No Oggi è febbraio Sì Sì Febbraio Febbraio Di mese Venedì Perché non c'è più Ok Poi Marzo Che sarà il compiano Di Vanessa Vanessa Sarà il compiano Di Vanessa E cuoricini Lo sapete Che stiamo organizzando Una festa Sorpresa Per Vanessa Ma te te Non è È pesante Coricini adesso Vi portiamo con noi A fare una cosa Un po' speciale Diciamo Il pane L'impasto Del pane Per chi non lo sapesse Erika e Vanessa Sono bravissime In cucina E aiuteranno Papà Alexandro E tu sei stanca Tu sei stanca Tu sei stanca 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 E stanchissima Stanca 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 E dopo Ci prepareremo Per andare al ristorante Ci trucchiamo Ci trucchiamo Mettiamo il rosetto Un bel vestitino E Io non voglio Il rosetto Io non voglio il rosetto Ciao papà Alexandro Ciao Corcini Siete già qua? Sì Siamo tutti presenti Voglio farvi vedere Cosa? Come si fa il pane Quello buonissimo Con Erika e Vanessa Che loro sempre Mi danno una mano Vero Vanessa? Il levito Allora Cosa abbiamo qua? Adesso metto la farina Abbiamo il levito Adesso faccio la farina Acqua Tepida Perché lo facciamo oggi Il pane Il pane lo facciamo oggi? Sì Sì Va bene Ok Cosa stai mettendo? Il levito Il levito Il levito naturale Ok Aspetta che ti aiuto Erika stai attento A non cadere dentro Ok E qua guardate Che lavorazio ragazzi Vanessa metterà La farina qua Bravo Vanessa io ti dico Basta ok? Io ti dico Basta Io ti dico Basta Posso mescolare Con le mani Volete ci mescolare Con le mani Vanessa basta Corcini noi Abbiamo lavato le manine Bene Prima di cominciare A fare l'impasto E' una cosa molto Molto importante Cosa si fa adesso? Mettere l'acqua Ok Ah ok Non tutta Non tutta Non tutta Tu dici basta Metti ancora Tu dici basta Dai tu mescolare Oh Vanessa Mamma mia Non tutta Wow Più o meno L'hanno messo tutta Siete come una Impastatrice Con le quattro tracce Attenzione Wow Ragazzi Ma quanto appartimento Dai che io la tengo Questo pane E intanto Intanto si gira La nostra Impastatrice Secondo me Questo pane Sarà molto Molto buono Fatto con tanto amore Da Erika E Vanessa Sì Giusto Dai sì Guardate 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 Da sotto Giratelo Giratelo Mescolate bene Guarda quanta farina Veramente tantissima Spostiamo i capelli Vanessa Fate attenzione Perché non voglio mangiare Pane con Capelli Capelli Sì Sì certo Dovete lavare le manine E si va a prendere Un bel vestitino Ma dobbiamo preparare il pane Però il pane lo faremo per dopo Adesso prepariamo l'impasto Lo lasciamo a riposare un pochino Ecco le qua Coricine Sporchissime Come vedete Sono sporchissime Le mani pulite Guarda Chiudi gli occhi Vanessa Aspetta Sei tutta di farina Guardatela Sì sono Pulite Ma qui C'era una buona Non è Farina Ok ragazzi Dobbiamo sbrigarci Dovete scegliere I vostri Outfit Io mi prendo una gonnellina Ok Una gonnellina Tu Vanessa Tu Vanessa Ti faccio vedere una cosa Aspetta C'è questo vestitino Aspetta che prendo Lo prendo subito No Non mi piace Ecco C'è questo vestito Eccolo qua Cosa dici Io voglio la gonnellina Che l'abbiamo comprata L'altra volta Mamma mia Coricine Coricine Vediamo Dove è il vestito Di Erika Qua sono tantissimi Ecco Secondo me Ecco questa gonnellina Ah ho capito Ti vuoi prendere Quella gonnellina Sì E tu ti vuoi prendere Questo vestito rosso Sì Va bene Eh allora ti prendi Qualcos'altro Lo devo provare Ok dai Eh Facciamo la giravolta Con la magia E io prendo prima la gonnellina Ok 3 E io prendo prima la vestita Ok 3 2 1 Gira È magia Ed ecco qua Erika E Vanessa La gonnellina mi sta largo E mi va giù Vedete Eh sì Ecco C'è questa gonnellina qua La voglio provare La voglio provare Provala Se no Ecco Vediamo C'è questa Molto carina Larga anche questa Anche questa è larga Wow Wow Sì Ecco Abbiamo trovato La gonnellina giusta Per Erika Eccola qua Tenere ma che non ci riesco A fare il video Eccola Bene Andiamo con i capelli Una foto 3 2 1 Facciamo la foto La foto La foto La foto Veloce 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 3 2 1 E Fatto Andiamo Vai I capelli Veloce Ti metto Questi due Fiocchietti Uno lì E un altro Da un'altra parte Ok E tu Vanessa Cosa hai trovato Wow Che carino Vuoi vedere Guardate È un orsacchiotto Che carino Ti piace no? Sì Andiamo a mettere anche i fiocchietti Dai 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 Veloce 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 Scegli i fiocchietti Quale? Mettiamo questi rosa? Ma cosa dici di mettere questi? Che vanno Vanno molto bene con il colore del vestito Va bene Mettiamo questi Vabbè Così Guardami Uno Lì Tegliamo un altro Uno diverso No Uno di questi Ma non c'entrano niente No Fatto Eccoci qua Siamo pronte Sì Io come vi ho detto Ho preso un vestito Nero È nero È tipo blu scuro Sì Scuro Due codine Come sempre Due codine Con i fiocchietti Sì Però con i capelli Lasciati sulle spalle E Vanessa no Vanessa no Perché Diciamo che Non è che gli piace tanto I capelli lasciati sulle spalle Sì Bellissimo Andiamo a truccarci Dai Andiamo Solo un po' di Rossetto Niente di più Sì ma dopo Se quello E il glitter Sì Bianco Io non voglio il rosetto Mamma mia Coricini Ho due colori Questo che è un pochino Roselino O questo che è un maroncino Quale te lo metto Erika Quale tra questi due Coricini Scegliete voi Coricine Perché parliamo Con le ragazze Dai veloce Vediamo che dovrà uscire Questo è rosa Ok Vieni Che lo mettiamo È bello È bellissimo Sì Non tanto Se mettiamo solo un pochino Di rosetto Che non fa niente Mamma Vieni Vado a vedere È sempre il latte Bellissima Vado a vedermi nello specchio Ok Mi metteva prima me Sì Cos'è? Ecco Chiudi 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 Ti puoi mettere anche a me il glitter Ecco qua Chiudi Sei bellissima Vai 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 a guardarti Ti metto anche a te Chiudi Ecco Così Mi metto anche io il rosetto E si può andare Guarda che bella Che bella anche la mamma Grazie Avete notato che io con Vanessa ho stesso capotto? Pio meno Se la molle di Babbo Natale Io con Vanessa sono la bianca neve Ah la bianca neve Ci vediamo un po' Se la bianca neve Ecco Siamo arrivati Sta piovendo Sta piovendo Uscite veloce Dai Papino Dai spegniti Farai dentro Perché sta piovendo Sì 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 Facciamo dentro tutto il video Chiudi Vai su vai su che è lì Vai 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 Cosa vuoi mangiare? Vuoi la burger e la pizza La burger Sì anche la pizza Ma come non fanno la burger? Questo è un ristorante Per pizza Sono pizze Risotti Pasta Carne Però io voglio tanto un hamburger La burger non c'è Andremo a McDonald's Dai che sposto questa lampada Così non vi fate male Di Coca Cola No Vanessa È un sassolino quello Ha un gusto di Coca Cola Ce l'hai signora? È Maria Santissima sì Faccio una cena romantica Con i miei signorini Grazie Bello Ecco Ma si possono chiudere le luci? Secondo me no Spendere si dice La porta La porta La porta si chiude No Erika No Erika Non possiamo Spendere le luci Dimmi Ma ma quello Quelle sedi tonte Sono per i bambini Perché Sarà un compliano Sì secondo me Oggi è un compliano Non vede l'ora di mangiare a casa Quei pane croccante Ah sì Lo vuoi mangiare? Con pane con Buro Con buro Con marmellata Marmellata che l'ha mandata la nonna Dalla montagna E tu provola Ma anche se metto il bicchiere sopra Si spende Non si spende Si spende Si spegne Si spegne Nia 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 Insomma campani Nia nia Erika Erika prova Erika 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 prova su Erika prova su ma non giù Con il bicchiere Cosa stanno combinando? Ma cosa stanno combinando? Cosa vuoi fare? Niente Niente Spendiamo le nostre cose Ma perché Erika? Ma lo sai perché si spegne Quando metti il bicchiere sopra? Si Perché? Perché lì è tutto chiuso Ok E non c'è aria Bravissima E si spende Si spende Alla fine Faremo questo esperimento Giusto? Con questo bicchiere Basta Basta il video? Ciao Ci vediamo Che bello Mamma mia è arrivata la pizza Le vostre pizze Ma perché questo? Sono i occhi Sono i occhi Guarda Allora È un cugniletto È un cugniletto Hai visto che prendi una piccolina? Che bella Sembra che vuole una farfalla Secondo me è un cugniletto No è un cugniletto Questi sono Sono i occhi L'hai visto? E questo è il nostro Nasino con la bocca Queste sono le orecchie Hai visto? Si È un cugniletto È un cugniletto Io tolgo gli occhi Il cuoricino Attenta che volete Il cuoricino Perché ti aiuto a tagliare O ce la fai? Il cugniletto di Erika Mangia le olive No, non le olive Non le olive Ma io piacciono Ce la fai a tagliare Vanessa? O ti aiuto io? No Però secondo me il coltello Lo devi mettere Qua Il coltello Lo devi ritenere Vanessa Il coltello Lo devi ritenere E la mano Destra Brava Così E adesso taglia Così D'accordo Buon appetito Buon appetito Buon appetito Mi sembra molto molto buona Com'è la pizza? Buona Buon appetito Buon appetito Vanessa è la tua? Ti piace? Buon appetito Sta mangiando Ecco Questa è la mia pizza Non vedo l'ora di mangiare E questa è la pizza di papà Aleksandro Con bucciola Mamma mia Con burattina Burattina? Sì Scusate Ho sbagliato Ho sbagliato Adesso ci mettiamo a mangiare Tutto Mangiate che sera fredda Eh sì Mamma mi aiuti Ma cosa stai facendo? Mi ha messo i miei orsi Se non è il mio bambino Come si chiama Teddy? Aspetta che non ci riesco No il mio si chiama Teddy No Ma come di mangiare si chiama? Si chiama Bula Ah Bula Bula No secondo me non va bene Bula Ah Bula 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 Non Bula 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 Sì alla urma Sì 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 Alla urma Aiuti Alla fine Abbiamo messo qua la tavola La candelina Sì Metti il bicchiere sopra Vediamo cosa sta succedendo Perché la fiamma si alimenta con ossigeno Lascia? Lasciala Lasciala Vediamo Cosa sta succedendo? Sì Sì Vedi Ecco Ecco Coricini come vedete Siamo arrivati a casa Erika super contenta Che ha mangiato la pizza Bevuto la coca cola Cosa sta facendo tua sorella? Vediamo Vanessa cosa stai facendo? Le pappe Mi sono fatta male tutto di sangue Vado a vedere Guarda Però non ti la toglia Mamma mia Cosa è successo? È successo da solo Era da oggi a scuola Vero a me Vediamo Sì Vedi che tu Ma perché è pomodoro? Ma non è pomodoro È sangue Sangue Poverina si è fatta male Sì me la sono fatta male Allora Ragazze Sono le otto e un po' Dobbiamo prendere il pigiama Lavare i dentini Coricini e a dormire Coricini Questo video finisce qua Speriamo che vi sia teciuto E non dimenticate Di iscrivervi al nostro canale Di attivare la campanella E di lasciare tantissimi like Fatelo Ciao ciao Bye bye Ciao ciao Nel letto anche voi Subito nel letto Dormite Anche oggi Sotto le coperte Dai 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 Sotto le coperte Dimme Ma cosa state facendo? Attenzione Potete cadere Basta adesso Ma guardate Anche voi siete Cosa con i vostri fratelli O con le vostre suele Anche i capelli Eccoci qua Buonanotte